Amore, bentornata! Ho preparato l'arrosto con le patate dolci. Le ho tagliate a rondelle sottili, proprio come piacciono a te. La voce di suo marito l'ha accolta dalla cucina, a braccetto con l'odore di rosmarino e vino bianco. Era rassicurante, calda, come solo il suo nome poteva esserlo. Mentre si sfilava le scarpe, Elisa lo scandì a fior di labbra. Dario. A volte, con tutti i sussurri che aveva in testa, aveva paura di dimenticarselo. Indossò le ciabatte e seguì il profumo di cibo fino in cucina. Suo marito era cucciato davanti al forno, di guardia alla teglia dove cuoceva l'arrosto, con i suoi amati jeans sdruciti, i lacci del grembiule allentati e il guantone a penzoloni su un ginocchio. Elisa prese posto a tavola. Come è andata dal dottore? Come sempre. Cioè è male? La leggerezza con cui parlò era la stessa di quando la chiamava per chiederle se fuori piovesse, o se poteva prendere il sapone al supermercato. Pungeva appena, come la carezza di una foglia secca. Elisa abbassò lo sguardo sulle proprie mani, strette sotto il tavolo. Ha detto che gli altri magistri sono soddisfatti di me. Questa è davvero una splendida notizia. E che devo sbrigarmi a concludere il rito. Dario si è sedetta al suo fianco, e in treccio alle dita le sue. È per questo che sei così abbattuta. Hai paura di non riuscirci. Di non riuscirci in tempo. Di trasformarmi in una strigia e farti del male. Sono sicuro che non accadrà. Sei o non sei l'apprendista maga migliore di tutte. Così dicono. Sappi che lo credo anch'io. Eri straordinario anche prima, ma ora... Beh, l'aggettivo fantastica non rende l'idea. Si sporse per stampargli un bacio sulla guancia. E tu? Com'è andata al lavoro? Ah, vorrei strozzare il mio capo. Mi ha messo in coppia con un certo Maurizio Gronfi. E sto tizio è di una logorrea che non ti so descrivere. Non fa altro che parlare, parlare, parlare. Nemmeno quando beve il caffè sta zitto. Che poi dicesse cose interessanti. No, deve sempre riempirsi la bocca di stronzate. E dire che quando ho finito la scuola di polizia ero anch'io una testa di cazzo. Ma non così tanto. Sospirò. Ogni giorno ce n'è una. Scusami, ti sto annoiando. Tranquillo, mi piace ascoltarti. Anche se mi lamento spesso. Sì. Il sorriso di Dario si allargò. Senza di te non so come farei. Sei un angelo. Lo pensi davvero? Ovvio. A volte mi chiedo perché stai con me. Mi sento un peso. Non dirlo nemmeno per scherzo. Quando ho scelto di sposarti sapevo chi eri. E non me ne sono pentito. Ti amo e ti amerò sempre. Elisa avrebbe voluto rispondergli che era lui l'angelo. Che se non ci fosse stato la sua vita non avrebbe avuto senso. Invece rimase in silenzio. Mentre Dario tornava a controllare l'arrosto. Le venne in mente di aver lasciato tutto in ingresso. Anche i suoi flaconi di pillole. Hai preso le medicine? Le chiese Dario. Non ancora. Vai, non servono due paia di occhi per guardare l'arrosto. Elisa abbozzò un sorriso. E lo lasciò al suo lavoro di sorveglianza. La borsa era sulla sedia dove l'aveva lasciata. Una gobba squadrata sotto il cappotto. Un brivido le attraversò la spina dorsale. Quando espirò, il suo fiato si condensò in una nuvoletta di vapore. Gli artigli di Asciacu emersero dalla sua ombra e le accarezzarono le spalle. Se vuoi essere una grande maga, dovrai rinunciare a quelle deliziose caramelle, mia cara. Oppure credi di poter scalare la gerarchia dell'Amba senza vista e udito. Zitto. Cos'hai agli occhi? Sei più recalcitrante del solito. Le lecca una guancia con la lingua appuntita. Il suo alito sapeva di sangue e putrefazione. Ah, l'amore, ma quello degli umani è effimero, dovresti saperlo. Lui è diverso. Mentì a se stessa. Nessuno può amare una come te, a parte un demone. Dario non mi lascerà, affermò convinta Elisa, giocherellando con la fede nuziale. Quando troverai una donna normale, lo farà. Proprio come hanno fatto i tuoi genitori, i tuoi amici e tutti coloro che ti hanno conosciuto. Io invece rimarò per sempre con te, Elisa. È una promessa. Non aveva la forza per respingerlo. Elisa afferrò il taglierino nella borsa e le sue gambe la portarono in bagno sul bordo della vasca. Le bastò una piccola pressione e la pelle si aprì sotto la lama. Asciacque mi su un gorgoglio compiaciuto. Brava, così. A noi basta questo per stare meglio. Soffocò un singhiozzo. La puzza del sangue le dava la nausea, eppure non riusciva a chiudere gli occhi. Il fumo rosso che scaturiva dal taglio l'alleggeriva del dolore cronico della sua esistenza. Asciacque lo aspirò dalle narici e infirò la punta dell'artiglio nella carne viva. Andrà tutto bene, finché avrai me. Non avrei nulla da temere. Elisa! Un eco di un altro mondo, da anni luce di distanza, attutita dal rimbombo delle gocce di sangue nella vasca. Le braccia di Dario, però, erano lì, attorno a lei, su di lei. La strinsero forte e un respiro caldo si infranse sulla sua fronte, imperlata di sudore freddo. Calma, va tutto bene, ora ti medico. Elisa lo seguì senza vederlo. Si muoveva in fretta, troppo per la sua mente anestetizzata. Capì davvero che cosa avesse fatto solo quando Dario togliò una garza e gliela avvolse attorno al braccio. Io? La sua voce si frantumò. Nascose il viso tra le mani e pianse in preda ai tremori, piegata su se stessa e su quel dolore che la stava mangiando viva. Dario la abbracciò e la strinse forte. Il battito del suo cuore le riempì le orecchie ed Elisa ci si aggrappò come quando da bambina stringeva il cuscino a ogni scoppio di tuono. Non ti lascio Elisa, sono qui, non ti lascio. Lo ripeté ancora e ancora, finché i singhiozzi non si calmarono. Allora la scostò e le asciugò le lacrime con i pollici, senza mai smettere di sorriderle. Io avrei un po' fame, ti va di assaggiare l'arrosto? Non sei arrabbiato? Balbettò a lei con voce roca. No amore, so che non è colpa tua. Le scostò i capelli dietro le orecchie e la accompagnò in cucina. Dopo cena Elisa sarebbe voluta sparire, invece Dario pretese che rimanesse con lui mentre lavava i piatti, durante il film, alla pausa sigaretta. Non la lasciò andare e continuò a parlare come se non fosse successo nulla. Quando cercarono un rifugio sotto le coperte, la trasse per un fianco e la baciò sulle labbra. Quel demone può dire quello che gli pare, l'importante è che tu non gli creda. Ti amo Elisa, non ti lascerò mai, è una promessa. Elisa intreccia le dita a quelle di lui e finalmente si rilassò. Chiuse gli occhi, cullata dal ritmo del respiro di Dario, e in pochi minuti si è resa al richiamo del sonno. Si svegliò con una brutta sensazione addosso. La sveglia segnava l'una passata. Amore? Chiamò. Possa una mano sul braccio di Dario. Freddo, come l'aria nella stanza. Amore? Lo scosse forte, sempre di più, finché la disperazione non la spinse a girarlo su Pino. Gli occhi di Dario, spalancati nel buio della semioscurità, le rimandarono uno sguardo cieco. Che cosa gli hai fatto? Ringhiò alle tenebre, ammassate intorno al letto. La rizzata di asciaccole vibrò nelle ossa. Non agitarti. Senza di lui staremo meglio, fidati. Dimmi dov'è. È proprio qui. Non lo senti? Un brivido le accapponò la pelle. Il demone aveva portato Dario sul fondo della sua anima, dove era inchiodata la catena che li vincolava, dove sapeva che lei non sarebbe mai scesa. Finalmente non c'è più nessuno a trattenerti. Diventerai una streggia bellissima, mia cara. Elisa guardò suo marito. Pareva dormire, invece i suoi occhi stavano diventando sempre più opachi. Non la vedevano, e se non avesse fatto qualcosa non l'avrebbero più vista. Saltò giù dal letto per aprire il cassetto del suo comodino. Rovesciò il contenuto sul pavimento e si chinò per afferrare ciò che cercava. La pistola di suo marito era un peso sconosciuto nel suo palmo. Cosa credi di fare? Quello che avrei dovuto fare tempo fa. Lo sai meglio di me che non resisterai a lungo laggiù. Non darti pena. Avanzò fino allo specchio. Aveva i capelli scarmigliati, gli occhi dilatati dal pianto e le braccia tracciate di una mappa di cicatrici. Sembrava una pazza. Lo sai meglio di me che non ce la puoi fare. Si tolse la fede dal dito e la strinse forte nel pugno. Quando si puntò la pistola a una tempia, tutta la sua percezione della realtà si ridusse a un pallino nel cerchio tiepido dell'anello. Non sprecare la tua vita così, piccola Elisa. Non serve per un umano. Deglutì. Era l'unico modo per scendere. Morire e sperare che non fosse per sempre. Lanciò un'ultima occhiata verso il letto. Ti salverò, promise. E premette il grilletto. Ti salverò, promise. Ti salverò, promise. Ti salverò, promise. Qualcun This Beatles Grazie a tutti